Anche il comune di Ardea si affiderà a SeaPass, la piattaforma informatica adottata dal Campidoglio per controllare gli ingressi nelle spiagge di Ostia. Il sito internet, che in realtà ha già mostrato qualche criticità, dovrebbe tenere il conto delle persone presenti sugli arenili. Inoltre, grazie al finanziamento regionale di 274 mila euro, l'amministrazione provvederà ad assumere una task force di bagnini e steward per evitare che si creino assembramenti. Quest'estate ci aspettiamo tanta gente, ha commentato il sindaco Mario Savarese. Ad Ostia i posti sono inferiori rispetto allo scorso anno, per cui i turisti si riverseranno da noi. Il nostro compito sarà tenere sotto controllo i flussi dei bagnanti, anche attraverso l'assunzione di personale che vigilerà sul rispetto delle regole anticontagio. In attesa che tutto ciò diventi operativo, sta ai cittadini seguire quanto previsto dall'ordinanza del 28 maggio. Sdraio e asciugamani ad un metro e mezzo di distanza, mentre gli ombrelloni almeno a 4 metri. La battigia deve rimanere libera per consentire il transito. Restano vietate infine le attività di gruppo.